per fare i carciofi alla giudia iniziamo dal pulire il carciofo togliendo dapprima le parti esterne ti consiglio per questa preparazione di utilizzare le mammole che sono dei carciofi più teneri il gambo non va tolto ma va privato della parte esterna più dura e coriacea togliamo le foglie esterne dopodiché tagliamo e apriamo leggermente il nostro carciofo per aiutarci possiamo anche sbatterlo e lo immergiamo in acqua e limone io qui mi sono preparata già tutti gli altri quindi adesso possiamo andarle a scolare in un panno prima di andarli a friggere perché altrimenti l'acqua andrebbe in contrasto con l'olio che in questo momento è a riscaldare prendiamo un panno come già detto ci appoggiamo i carciofi a testa in giù e li facciamo scolare bene bene tamponiamo e friggiamo in olio di semi di arachidi come vedi si sono formate delle bollicine attorno allo stuzzicadenti quindi la temperatura è quella giusta e mettiamo il nostro carciofo così per cuocersi ci vorranno 5-10 minuti si capisce che sono cotti quando risultano dorati come in questo caso oppure un'altra prova che puoi fare è quella di infilare una forchetta all'interno se passa come in questo caso nel cuore significa che è il momento di scolarli altrimenti devi proseguire la cottura ci prepariamo un piatto con della carta scottex e lo scoliamo qui e subito lo saliamo perché il fritto va salato subito lo giro così e facciamo la stessa cosa anche con gli altri c'è un profumino che non ti dico guardate che meraviglia e come tutti i fritti una volta cotti questi vanno mangiati immediatamente